Ciao, sono Antonietta Bencis-Peterzole e sono molto lieta di essere stata invitata a contribuire con la mia presenza alla realizzazione del EFT Web Camp 2012. Come annunciato dal titolo, la mia conferenza tratterà il mondo delle donne con i loro piccoli e grandi disagi, nonché come affrontarli in una società che pare e si aspetti poco, ma nonostante ciò dalle donne richiede molto, qualche volta forse anche un po' troppo. Ragion per cui moltissime donne si trovano talmente stressate al punto da non essere capaci di esprimersi, da far capire al proprio partner, alla famiglia, ai figli, come si sentono, che cos'hanno, e non potendosi far capire correttamente, ecco è un po' anche difficile trovare aiuto, cosa che di sicuro migliorerebbe le loro prestazioni in tutti i campi. Altrettanto, un tema della conferenza sarà la fibromialgia o sindrome fibromialgica, una sindrome che è considerata come una malattia, un disturbo femminile, però interessa anche moltissimi uomini che magari neanche, non conoscendola, neanche sanno di averla. Così, cercherò di darvi qualche informazione sulla fibromialgia, tratto delle mie esperienze personali, qualche valido consiglio su come maneggiare la situazione in generale, in caso di fibromialgia, e naturalmente come usare l'IFT come strumento di supporto e come valido strumento per risolvere molti problemi. Ecco, questo sarebbe in breve, spero l'argomento vi interessi e vi aspetto a tutti quanti all'IFT Camp. Ciao!